C'è un'altra partita di Mortal Kombat 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 Fra poco arriva il terzo colpo Sì lo potete dire Una botta di culo inizio partita a eliminare Il generale nemico Guardate, morriano le cannonate da lontano Velocizziamo un attimo Eccole, eccole Stanno per arrivare Il generale va in fuga È instabile La bandiera comincia a lampeggiare Presto si vedrà che non resisterà C'è da dire che il nemico davanti ha schierato Le unità con i razzi incendiari Che per chi lo sa sono molto pericolose Quando colpiscono il nemico fanno danni ingenti Io continuo con i cannoni a colpire parecchie unità Come potete vedere Ne ho uccise veramente tante Sto continuando Lui intanto nasconde un'unità di monaci Guerrieri con nanigata E la continua a spostare verso il bosco Presto riuscirà a beccare le mie unità Ma io diciamo che ne approfitto E mando avanti i miei fucilieri Così quando arriveranno i suoi monaci Si beccheranno i proiettili Intanto il generale è fuggito Come potete vedere è fuggito Quindi già inizio partita Ha il generale che fugge Intanto Mortis ha le catapulte Come potete vedere Sta continuando a bombardare il nemico Con le catapulte Poi ha tantissima cavalleria Diciamo che lui ha un esercito molto più numeroso Ma molto più scarso del mio Come è normale che sia Però diciamo che non ha Shigaru stavolta Ma ha tutti i samurai Sia con katana che con arco Io ho sparato con i miei Shigaru Con fucile Ma il nemico ha resistito Perché ha un morale d'acciaio Infatti i monaci hanno un morale alto E riesce ad aggiungere i miei Shigaru Con miccia Con fucile a miccia Ma sinceramente non è un problema Perché Che i miei Shigaru vanno in fuga È l'ultimo dei miei problemi Sinceramente Intanto riesco a demoralizzare Tantissimo l'unità di Shigaru con arco Anche se non l'ho colpita Gli ho tirato le frecce Fischianti Qualcosa del genere Si chiamano Ho mandato in rotta L'unità di monaci Che è molto importante Il nemico avrà un'unità Molto forte in meno Gli mando la mia cavalleria Anche contro gli arcieri Perché ormai Sono spacciati E' stato stupido A portarli fino a qua E la mia cavalleria Li spazza via Intanto guardate i suoi razzi Quanto sono pericolosi Perché Sono molto imprecisi Ma quando colpiscono il nemico Lo desintegrano Ne demoralizzano anche il morale Tanto il nemico è arrivato Sull'esercito di morte E fra poco ci sarà lo scontro Infatti già Si combatte I primi scontri Tra La fanteria di corpo a corpo E arcieri Lui mi manda L'esercito bianco Mi manda Un'unità di cavalleria Che io subito intercetto E la elimino Ma il mio obiettivo Diciamo che non era Proprio quello Di fermare l'unità di cavalleria Ma Di eliminare La catapulta del nemico Perché se riusciamo A eliminare la catapulta del nemico Avremo Via libera Da avanzare Magari A uccidere qualche unità Quindi Con tutta la cavalleria Continua ad avanzare Lui Mi manda Altra cavalleria Per fermarmi Ma Niente Può fermarmi Infatti Arriverò Sulle sue catapulte Quelli che vi ho fatto vedere prima I razzi incendiari No scusate I razzi incendiari Si Mi hanno sparato Sulla cavalleria Mi hanno fatto Tutte Mi hanno massacrato La cavalleria Infatti La mia cavalleria Ridotta all'osso Da 4 unità Che erano Ne sono rimaste 2 Veramente messe male E Però sono riuscito Nel mio intento Ho distrutto I trabocchi Del nemico E Lui mi manda 2 unità di cavalleria Coniari Bella fresca Io Sono parecchio stanco E subisco La carica Di 2 cavallerie Ok Le mie guardie Le mie grandi guardie Hanno un'abilità Che Praticamente Fa Togliere La stanchezza Le mie unità Infatti Ci sono riuscito E sono anche riuscito A mandare in fuga Un'unità di cavalleria E l'altra Gli ho Veramente Fatto male E quindi Molto buono Così il nemico Non ha più Cavalleria O ce l'ama Di mezzata Lui continua Ad avanzare I miei moschetti Sparano Ma fanno pochissime vittime Perché hanno una precisione Di merda Ormai C'è lo scontro Corpo a corpo Io cerco di salvare I miei monaci E portarli indietro Perché Sono unità Con arco E quindi non efficaci Mando tutta la mia Fanteria potente Contro Il nemico Sul fianco Sinistro Aiuto Mortis Che è in difficoltà Gli mando Una mia unità Di samurai Con katana Super veterana Attacco anche Con Ormai non mi servivano più Dato che avevo finito Le munizioni Lui mi raggiunge Con la cavalleria Ma è ridotta All'osso Sembra che Si stia mettendo Veramente bene Per me Perché Gli sto facendo Lampeggiare Tutte le bandiere Anche perché In precedenza Gli ho ucciso il generale Intanto Mortis Diciamo che Non se la sta Vedendo tanto bene Gli sono rimaste Pochissime unità Infatti Le poche unità Che sono Sono due unità Di cavalleria Che stanno Affrontando Dei lanceri Dei nanigate Quindi Presto andrà In rotta Anche Mortis Io Cerco di salvare La mia unità Di samurai Super veterana Che mi servirà Dopo Sotto la pioggia Di frecce La porto Verso il mio esercito Intanto Sono riuscito A mandare in rotta L'esercito verde Le poche unità Che sono rimaste Sono mal ridotte Con il morale a terra Quindi Più di tanto Non me ne preoccupo Anzi Gli bersaglio Anche con il mio generale Posiziono i miei monaci Guerrieri con arco Che avevo precedentemente Salvato Proprio a fortuna Sul fianco sinistro Per Contrattaccare il nemico Anche se sono Veramente Mar ridotte Hanno una velocità Di ricarica Impressionante Infatti Fanno tantissime vittime Fra le linee Tra gli arcieri Del nemico Io Comincio a sistemare Quel poco di esercito Che mi è rimasto C'è soltanto Fanteria Il nemico Finisce Mortis Perché Gli rimangono Due unità E quindi Presto Sarà su di me Capisce Che Per battermi È veramente Difficile Perché deve Eliminare tantissimi Samurai Con katana E quindi Vuole attaccare Il mio generale Ma io L'ho fatto inditreggiare E lui L'ha avvicinato Talmente tanto Che io Con la mia fanteria Sono riuscito Ad acchiapparla Diciamo E Anche perché L'avevo bloccata Con i monaci Arrivo sui suoi arcieri Che quindi Presto Manderò in fuga Sinceramente Il nemico Diciamo che Poteva ancora Battermi Perché le mie unità Sono Stanche Ma ridotte E se lui Avesse allontanato Gli arcieri E magari Con le altre sue unità Mi avrebbe attaccato Magari C'era una piccola possibilità Ma Ma neanche tanto Perché le sue unità Sono veramente stanche Guardate Non me ne ero accorto Hanno Il piede Arancione Forse lui Non se ne rende conto Li manda a correre Contro il mio esercito Stancandoli ancora di più Infatti Non sono molto stanche Ma sono esauste Il mio esercito Praticamente Bello fresco Ha combattuto Ma solo una delle mie unità Il piede giallo Addirittura il piede rosso Gli escono le sue unità Quindi ormai la battaglia È vinta Riucizziamo un attimo C'è lo scontro Fra la mia E la sua fanteria C'è da dire Innanzitutto Che la mia fanteria Con katana È più efficace Della sua Perché La sua è con Nanigata Lui cerca Di ammazzarmi Il generale Ma Non mi fa niente Anzi Sono io A mandarlo In fuga Molto presto Perché ha Molte meno unità Di me Il generale È andato in fuga Le sue unità Anche Io vinco la battaglia Con parecchie Delle mie unità Con katana Ma ridotte Ma Me ne sono rimaste tante Così io e morte Svinciamo la partita E Tutto qui Votate Commentate Un saluto Da ItalianGameChannel Adesso